Salve, io sono Raimondo Catania, direttore del Centro Ricerche e Tradizioni Popolare di Catania. Sono qua per essere una guida a tutti coloro che vogliono imparare a suonare il friscaletto. Cos'è il friscaletto? È un tipico strumento siciliano costruito con la semplice canna, la canna che viene messa per tenere ferme le piantine. Un'altra parte importante del friscaletto, come vedete questo qua, è il tappo, è quello che fa suonare questo strumento, come vedete, perché il friscaletto chiaramente senza questa chiusura non suonerebbe mai, quindi ha bisogno di questo. Questo è un tappo fatto con oleandro, ma può essere fatto anche con olivo oppure con il ramo di fico. Questo strumento se girate in tutta la Sicilia lo sentirete chiamare nelle diverse province, friscaviatto, frischitto, friscaloro, friscaretto. In pratica, se ascoltate bene, cambiano delle vocali o delle consonanti. L'unico posto dove cambia nome completamente è a San Fratello, provincia di Messina, dove risentono ancora della parlata gallo-italica e lo chiamano Uvescott, quindi una cosa completamente diversa. E allora, vediamo adesso le principali caratteristiche che c'è a questo strumento, che soprattutto sono tre. Quindi la prima è che la tonalità si determina lasciando aperti gli ultimi due buchi, cioè se noi chiudiamo o otturiamo tutti i buchi del friscaletto e lasciamo aperti gli ultimi due buchi, se mettiamo la nota DO diremo che questo friscaletto è in DO. La stessa cosa sarà se noi abbiamo in mano un friscaletto in LA. Per essere in LA devo lasciare aperti gli ultimi due buchi, se questo mi dà il suono del LA vuol dire che questo è un friscaletto in LA, a differenza del flauto dritto, del flauto dolce che la tonalità la si determina con tutti i buchi chiusi. Un'altra caratteristica importante di questo strumento è che non abbiamo il piano o il forte, non possiamo noi dire suona piano o suona più forte, no, perché ognuno di questi strumenti ha un suono, una determinata caratteristica e quello è. Quindi non esiste né piano né forte. Anche perché se noi tendiamo di aumentare il suono soffiando più forte, la nota non sarà più uguale. Oppure se tendiamo di fare una suonata piano, quindi mettendo il fiato di meno, quella nota non uscirà giusta. Quindi il friscaletto ha bisogno di un'emissione di fiato che sia regolare, giusta per quella che ci vuole, per poter mettere la nota giusta. Un'altra cosa importante quando si studia questo strumento è quella di avere sempre vicino, di confrontare sempre i suoni con uno strumento tipo pianoforte o tipo fisarmonica. Questo perché essendo uno strumento questo diciamo artigianale e incerto, ha bisogno dell'emissione del fiato che sia precisa per poter mettere la nota giusta. Quindi se noi abbiamo uno strumento vicino come pianoforte fisarmonica, possiamo benissimo ascoltare le note che escono e vedere se l'emissione del fiato sia giusta. Vediamo un esempio. Provo a fare la scala di Do maggiore con questo friscaletto in Do. Adesso confrontiamola col pianoforte. Avete visto che già ci siamo nella vicinanza dei suoni. La stessa cosa se io ora ho un friscaletto in Do, quindi una cosa fra parentesi che volevo anche dire è che questi sono strumenti traspositori. Che significa traspositori? Traspositori vuol dire che se io con un friscaletto in Do faccio una suonata e poi con le stesse posizioni, muovendo le mani nello stesso modo, la faccio con un friscaletto in La, per me sarà uguale, la suonata sarà sempre giusta e corretta. Chi cambia è chi mi accompagna, perché se io faccio, porto un esempio, Vittina Crozza e la suono con questo friscaletto in Do, chi mi accompagna naturalmente userà Do e Sol settima. Se io la faccio con questo friscaletto in La naturalmente dovrà cambiare gli accordi in La e Mi settima, mentre per me la posizione sarà sempre quella. Difatti se io voglio fare la scala di La maggiore, così come ho fatto col friscaletto in Do, partendo da questa posizione, muovendo le dita nella stessa maniera, con questo otterrò la scala di La maggiore. Vediamo come. Quindi questo vuol dire essere uno strumento traspositore. La stessa cosa accade se io prendo un friscaletto in Silvia Molla, se io prendo un friscaletto in Sol, per me non cambia nulla. L'unica cosa che dovrò adattare sarà sicuramente il fiato, perché ogni friscaletto ha bisogno di un fiato diverso, pur avendo la stessa tonalità. Come se potete notare, se io prendo questo friscaletto che è un timbro molto robusto e brillante, che è in Do, ha bisogno di molto fiato. Se invece vi faccio ascoltare questo, pur essendo un friscaletto in Do, questo ha bisogno di pochissimo fiato ed ha un volume di fiano molto inferiore a quest'altro. Allora vediamo, ascoltiamo questa scala fatta in Do maggiore da questo friscaletto che ha bisogno di poco fiato. Vedete che timbro fine che c'ha. Allora abbiamo detto... E adesso ascoltate la differenza di suono che c'è con questo qua, come volume. Avete notato, diciamo, la differenza che esiste tra l'uno e l'altro.